Vediamo un po' di esempi. Un universo di lavoratori è costituito da mille impiegati, di cui 230 sono laureati. Calcolare la probabilità che in un campione bernugliano di 10 impiegati siano estratti 4 laureati. Quindi come successo consideriamo l'estrazione di un laureato dall'universo. Come calcoliamo questa probabilità di avere un successo, cioè di estrarre un laureato, π è uguale al numero di casi favorevoli, 230 laureati, diviso il numero di casi possibili, mille impiegati, e quindi uguale a 0,23. Quindi ho il 23% di possibilità di estrarre in una prova un laureato dai mille impiegati dell'universo. Voglio calcolare la probabilità che in un campione bernugliano di 10 impiegati, quindi n uguale 10, il campione bernugliano e quindi l'estrazione avviene con riemissione, per cui le estrazioni sono tutte indipendenti tra loro, e quindi possiamo applicare la binomiale, altrimenti non potremmo applicarla. Voglio calcolare la probabilità che siano estratti 4 laureati, quindi s uguale 4. Quindi devo calcolare la probabilità di avere 4 successi su 10 prove. Quindi 0,23 alla quarta, che sarebbe π elevato a s, per 1 meno π elevato a n meno s, cioè 1 meno 0,23 elevato a 10 meno 4, per il coefficiente binomiale 10 su 4. Quindi il coefficiente binomiale si calcola in questo modo, andiamo a risolvere 0,23 elevato alla quarta, per 1 meno 0,23 elevato alla sesta, per n fattoriale 10 fattoriale, diviso s fattoriale 4 fattoriale, per n meno s fattoriale, quindi 10 meno 4, che sarebbe 6 fattoriale. E ottengo un valore uguale a 0,122. Quindi ho una probabilità del 12,2% che da questo universo estragga un campione bernulliano di 10 impiegati in cui ci siano 4 laureati. Vediamo un altro esempio. Un universo di impiegati è costituito dal 23% di laureati, quindi prima ti davo il numero degli impiegati e il numero dei laureati, qui ti do direttamente la percentuale dei laureati, che sarebbe π, quindi π uguale a 0,23. Calcolare la probabilità che in un campione bernulliano di 10 impiegati siano estratti almeno 8 laureati. Quindi il successo è sempre l'estrazione di un laureato, la probabilità di estrarre un laureato è π uguale a 0,23. n uguale a 10. Devo calcolare in questo caso la probabilità che siano estratti almeno 8 laureati, quindi 8 laureati oppure più di 8 laureati. Quindi quando abbiamo il termine almeno, dobbiamo indicare s maggiore o uguale, quindi abbiamo il segno maggiore o uguale. La probabilità di avere almeno 8 successi su 10 prove è uguale a π di s maggiore o uguale a 8, cioè π di 8 più π di 9 più π di 10. Quindi devo calcolare queste tre probabilità e sommarle tra di loro. Quindi 0,23 elevato a s, cioè elevato a 8, per 1 meno 0,23 elevato a n meno s, cioè elevato a 2, per 10 fattoriale diviso 8 fattoriale per 2 fattoriale. E ottengo questa probabilità. π di 9 sarebbe la probabilità di avere n meno 1 successi. E quindi applico la formula che abbiamo visto nello schema precedente sulla binomiale, cioè π elevato a n meno 1, 0,23 elevato a 9, per 1 meno 0,23, per n, quindi per 10. E ottengo quest'altra probabilità. E poi abbiamo π di 10, cioè la probabilità di avere tutti i successi su tutte le prove, che sarebbe π elevato a n, quindi 0,23 elevato a 10. Sommo queste tre probabilità, che sono abbastanza basse, e ottengo la probabilità di avere almeno 8 laureati in questo campione pernulliano di 10 impiegati. Quindi ottengo questo valore, posso moltiplicarlo per 100 per avere la probabilità in termini percentuali, e ottengo lo 0,02232%, che da questo universo estragga un campione pernulliano di 10 impiegati, di cui almeno 8 siano laureati. Come possiamo vedere, la probabilità di estrarre un laureato dall'universo è già abbastanza bassa, ed è 0,23. In più, la probabilità di estrarre almeno 8 laureati su 10 è davvero molto bassa, perché almeno 8 successi su 10 prove è davvero un risultato molto improbabile, anche perché π è abbastanza basso. Vediamo un altro esempio. Considerando sempre lo stesso universo, calcolare la probabilità che in un campione bernulliano di 10 impiegati siano estratti al massimo 8 laureati. Quindi π è sempre 0,23, n uguale 10. Al massimo significa 8 laureati oppure meno di 8 laureati. Significa che al più nel campione avremo 8 laureati, non di più. Quindi s minore uguale di 8. Quindi in corrispondenza di almeno abbiamo il segno maggiore uguale, in corrispondenza di al massimo oppure di al più abbiamo il segno minore uguale. Quindi la probabilità di avere al massimo 8 successi su 10 prove è uguale alla probabilità di averne 0, più la probabilità di avere un successo, più la probabilità di avere due successi, fino alla probabilità di avere 8 successi. Ovviamente dovrei calcolare 9 probabilità e sarebbe davvero tanto, cioè sarebbe dispendioso sia in termini di energia sia in termini di tempo. Quindi come faccio? Semplicemente considero la probabilità totale 1. E da questa probabilità totale sottraggo le rimanenti probabilità p di 9 e p di 10. Quindi 1 meno p di 9 più p di 10. Quindi calcolo p di 9 e p di 10. In realtà le ho già calcolate in precedenza. E avrò p di s minore uguale di 8. Quindi 1 meno la somma di queste due probabilità è uguale a 0,9999857. Moltiplico per 100 e ottengo che ho il 99,99857% di probabilità di osservare in un campione di 10 impiegati, un campione pernulliano, al massimo 8 laureati. Quindi qui la probabilità è molto alta.